E' morto questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Briandate in provincia di Novara a Dil Velakdim, aveva 37 anni ed era residente a Vizzolo Predabissi a Milano. Nel Cuniani era coordinatore interregionale dei SICO Bassa e è accaduto in via Guido il Grande durante una manifestazione in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori e della logistica. L'autista di un camion, forse per fare manovra, avrebbe afforzato il blocco della manifestazione e quindi vestito il sindacalista, trascinandolo per una decina di metri. Un altro manifestante è stato a soccorso dal personale del 118 perché in stato di shock il camion avrebbe urtato anche altri due manifestanti, sono rimasti feriti in modo non grave. L'autista che non si è fermato è stato raggiunto in autostrada dai carabinieri, ora è in stato d'arresto con l'acqua di omicidio stradale e resistenza. Alcuni lavoratori che hanno assistito all'incidente dicono che il camion l'ha trascinato per una ventina di metri, il conducente non può non essersene a conto. SIGLA 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 SIGLA